Maria Elisa Aloisi, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invita. E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, il posto delle parole, per raccontare, ma non troppo, ovviamente, il libro, il romanzo, nella collana editoriale Giallo Mondadori, il romanzo di Maria Elisa Aloisi, intitolato Sto mentendo, un caso per Ilia Moncada. Ricordo che Maria Elisa Aloisi, nata a Lentini, viva Catania, dove lavora come avvocato penalista, ha pubblicato già diversi romanzi e questo è l'ultimo, tra l'altro ha pubblicato anche i libri per giovani lettori, questo lo prendo sempre in considerazione perché questo è importante, quando gli scrittori dedicano anche del loro tempo a scrivere per ragazzi, credo che sia anche un atteggiamento importante verso i nuovi lettori, Maria Elisa Aloisi, vero? Credo che è un tipo di scrittura che mi piace tantissimo praticare, devo dire che Il mistero di Villa Polifemo, che è edito da Battella Vapore, è un romanzo che mi ha dato e continua a darmi tantissime soddisfazioni. Mi piace tantissimo il contatto con i ragazzi e poi diciamo che la differenza, è una frase che viene attribuita a Dino Buzzati, la differenza tra scrivere per adulti e scrivere per ragazzi è soltanto che scrivere per ragazzi è più difficile. Ti devo dire che nella mia esperienza in effetti non è stata proprio una passeggiata perché la semplificazione non è sempre un processo facile da eseguire e poi anche chiaramente i contenuti non possono essere quelli di un giallo, di un thriller per adulti. Non voglio dire con questo che debbano essere edulcorati, però sicuramente devono essere degli registri linguistici e anche dei contenuti che in qualche modo debbano anche tenere conto della formazione. E adesso entriamo, entriamo a respirare l'aria di questo romanzo, di questo giallo. Partendo da che cosa? Partendo dall'immagine di Copertina, ci racconti che cosa ci dice questa immagine? Allora, nell'immagine è raffigurato il Pozzo di Gammazzita, innanzitutto siamo a Catania, il palcoscenico principale è Catania, in Copertina è raffigurato il Pozzo di Gammazzita, è un luogo del mio cuore, poco conosciuto, anche poco conosciuto a Catania. È un posto antichissimo, immaginati che era già presente durante gli anni della guerra del Vespro sicuramente, anzi diventa un posto importante per Catania. Siamo quindi negli anni della dominazione francese e la leggenda narra che una popolana, quindi una catanese del popolo, una ragazza bellissima, proprio il giorno delle notte si rega a questo pozzo. Tuttavia, un soldato francese che si era immaginato di lei, la segue per abusarne e lei per non perdere il sonore si butta dentro questo pozzo e annega. E da qui sembrerebbe che sia proprio la miccia che fa scattare i Vespro siciliani, perché comunque i siciliani tutto puoi toccare tranne che le donne e quindi avevano sopportato anni di dominazione francese, anni e anni di angherie, però nel momento in cui viene insidiata una donna i siciliani scattano e quindi da quel momento in poi questa gammazzita viene considerata quasi una protettrice per i catanesi. Però passano gli anni e arriviamo nel Novecento, la seconda metà del Novecento e questo pozzo che aveva sempre rappresentato, era sempre stato considerato un simbolo per i catanesi e poco a poco la leggenda viene un po' dimenticata e addirittura in un certo momento nessuno sapeva più dove si trovasse questo pozzo. Perché? Perché durante gli anni dell'abusivismo edilizio selvaggio si comincia a costruire intorno al pozzo, tant'è che oggi è più noto come pozzo di gammazzita e accade anche che siamo nella zona del centro storico catanese, quindi a un passo proprio dal castello ursino e il cortile che era un posto molto isolato, molto oscuro eccetera, chiaramente un luogo perfetto per scenare una scena del delitto, nel mio caso, viene chiuso da un privato perché era stato presso di mira da tossici, ladruncoli eccetera. E quindi questo qui è un paradosso che io racconto nel mio romanzo, uno dei tanti paradossi tra l'altro del catanese, perché è un sito di interesse storico e ancora oggi per un turista non è possibile andare a visitare questo cortile, questo pozzo, perché c'è questo cancello messo su da questi privati del cortile e quindi per entrare e visitare il posto si deve chiedere il permesso a loro, oppure si deve contattare un'associazione culturale di volontari che un paio di volte al giorno hanno le chiavi di questo cancello e ti fanno accedere a questo sito. E la presenza sotterranea di Catania è una presenza importante, questo pozzo, poi ricordiamo l'Amenano, il fiume che passa e sono delle presenze importanti che hanno alimentato… L'acqua all'enzuolo, c'è una fontana, sì sì. Che hanno alimentato anche la fantasia di scrittori, come in questo caso Maria Elisa Luisi, che ci porta nel mese di novembre quando il fiume Etna ha appena sputato cenere e così comincia questo romanzo. Catania, nove novembre, si iniziò a sedere sul letto nel buio pesto della stanza, sollevò il viso come per fissare il soffitto, poi lo abbassò sfiorando con il mento l'incavo del collo, le vertebre cervicali scricchiolarono, Etna era più rigida del paladino all'opera dei pupi, perciò ripeteva sempre l'esercizio dieci volte, né una di più né una meno, tutti i giorni. E così comincia, con questo esercizio, pensando a questa donna più rigida del paladino all'opera dei pupi, allora c'è questo esercizio, è come se la telecamera indugiasse su questa presenza e da qui comincia la storia di questo romanzo, sto mentendo. E allora deve entrare in scena, chi deve entrare in scena? Anzitutto, purtroppo, come in tutti i gialli o meno male, anzi entra in scena il corpo che viene ritrovato di Carlo Spadaro. Chi era Carlo Spadaro? Carlo Spadaro era un geriatra sul quale pende una delle peggiori accuse che possono vedere imputato un uomo, perché era imputato di aver abusato della figlia, però diciamo che quello dell'abuso sulla minore non è un tema che entra all'interno del romanzo marginale, perché noi lo vediamo proprio cadavere già in apertura, in questo suo appartamentino proprio all'interno del pozzo di Gammazzita, che quindi diventa, come dicevo prima, la scena del delitto. Viene accusato dell'omicidio il suo datore di lavoro, perché questo Carlo Spadaro era un geriatra che lavorava presso una RSA, e il suo datore di lavoro, che è un imprenditore tale Crisa Pulli, viene imputato dell'omicidio. Si occupa del caso Ile Moncada, che è un avvocato penalista, 34enne, e che è già la protagonista di un precedente romanzo, Il canto della falena, con il quale io vinsi il premio Alberto Tedeschi, che è stato poi anche il premio che mi ha consentito di entrare nella collana della Giallo Mondadori. E questo è un passo importante, perché a volte i premi sono delle sottolineature che permettono all'autore, anzitutto un riconoscimento del lavoro fatto, ma anche poi di avere nuove aperture. Adesso continuiamo a raccontare di Emilia, detta Iglia per gli amici, questa giovane penalista, e dalla creatrice vogliamo capire, per i nostri ascoltatori, qual è il carattere di Iglia, perché questo è veramente da raccontare, perché questo è un carattere molto singolare. Sì, è molto singolare, soprattutto se si prende in considerazione la tradizione letteraria dei legal thriller. Perché? Perché spesso la figura dell'avvocato, dall'azzecca da Arbulli in poi, viene vista sempre in una maniera un po' ecco come il furbacchione, il tessitore di inganni, di raggiri, eccetera. Sotto questo profilo Iglia è singolare, perché ha un approccio alle regole molto rigido. è presente un po' quegli studenti che studiano medicina e a furia di studiare malanni su malanni, se li sentono tutti addosso e diventano un po' ipocondriaci. Lei in pratica è così, a furia di studiare crimini e reati, eccetera, ha questo approccio molto rigido nei confronti della legge, delle regole, è una di quelle che se parcheggia sulle strisce blu scende e controlla mille volte se una ruota dell'auto sta fuori di due centimetri dalla striscia. E credo che abbia anche ragione, perché questa è una cosa importante. E mi scuso di questo, perché noi nella nostra fretta, quando parcheggiamo, lasciamo magari un pezzo di ruota al di fuori e questo è passibile di molta. La stavi dicendo per questa cosa? E quindi lei è sempre molto attenta alle regole e questa cosa in qualche modo l'ha anche irrigidita nel carattere. Lei si sente profondamente mutata rispetto alla ragazza che era, insomma, ai tempi del liceo, quindi in età adolescenziale e anche nei primi anni universitari. Un'altra caratteristica che un po' in qualche modo è particolare, singolare per un avvocato, che in genere vengono dipinti come principi del foro, è che lei non ama parlare in pubblico, anzi in realtà ha proprio una fobbia di parlare in pubblico e per esorcizzare questa fobbia tiene sempre con sé in tasca delle pietre di calcedonio blu che si narra sia la pietra dell'eloquenza e la pietra che ad esempio De Mostene te veneva in bocca per superare la balbuzie e quindi invece lei la tiene in tasca un po' come talismano. E poi sicuramente un'altra delle sue caratteristiche è l'amore che ha nei confronti degli animali e in particolar modo del suo cagnone Mou che è un cane trovatello che lei incontra nel primo libro, nel campo della Salena. E questa è una presenza importante, però andiamo nell'aulo del tribunale perché mentre rispondevi alla domanda mi sono caduto casualmente, si fa per dire su una sottonatura tra le tante. E poi non è semplice smascherare una falsa accusa. Ogni volta che in aula sentivo recitare a un testimone la formula di impegno per me era come se in realtà stesse dicendo io sto mentendo. Un'affermazione di cui è sempre possibile ribaltare il contenuto perché se fosse vera sarebbe falsa e se fosse falsa sarebbe vera. Dunque, che cos'è mai il paradosso del mentitore, Maria Elisa? Riassume diciamo un po' tutto il romanzo, quindi già nel titolo sto mentendo e sembrerebbe appunto che uno dei paradossi più antichi della storia. come leggevi, è una frase appunto che non può essere né vera né falsa se ci riflettiamo bene. Che è un po' quello che Ilia e io, perché anch'io come dicevi sono un avvocato penalista, è un po' quello che proviamo ogni volta quando siamo costrette per mestiere, per professione, a valutare chi ci sta di fronte. Un po' perché, ecco, non è detto che un testimone menta perché è consapevole di mentire. I meccanismi possono essere tantissimi, più disperati che conducono alla menzogna. Anche uno scarso ricordo. Considera che la curva dell'oblio è più o meno di un mese, ma come tutti sappiamo e purtroppo a causa di una lentezza esasperata della macchina della giustizia i testimoni nel 99% dei casi si trovano a entrare in aula per essere esaminati a diversi anni dal fatto, perché ogni fatto di reato, in questo caso un omicidio, è un fatto che è avvenuto nel passato e che non si ripeterà mai più, quindi è necessaria una ricostruzione in aula, una ricostruzione in aula che viene vista attraverso tantissimi punti di vista che sono quelli dei testimoni. Come ti dicevo, non è detto che un testimone voglia mentire, semplicemente a volte sono anche proprio dei meccanismi psicologici che si innescano nella persona perché vuole essere utile alla macchina della giustizia, perché vuole coprire, vuole in qualche modo difendere il proprio onore. Ti faccio un esempio, è probabile che se un avvocato di accusa o di difesa, quindi un pubblico ministero, chieda a un testimone come, che colore era la maglia che indossava un determinato tizio, non lo ricordi perché appunto rientra in quella curva dell'oblio di cui parlavamo prima, che solitamente non va oltre il mese. E quindi cosa avviene? Che spesso noi ci ricitiamo di dire non ricordo, ma anche perché è proprio il cervello che inizia a creare delle tesserine per ovviare a questo vuoto. O che ne so, ad esempio quando si chiede a un testimone, lei ha assistito a questa rapina? E il cassiere, cosa faceva nel frattempo il cassiere che subiva la rapina? Nella maggior parte dei casi è chiaro che un testimone che assiste a una rapina non guarda il cassiere, ma guarda il rapinatore e in particolar modo abbia gli occhi fissi sull'arma del delitto. Ebbene, nella maggior parte dei casi il testimone risponderà il cassiere teneva le mani in alto. Ma perché il cassiere teneva le mani in alto? Lui non lo guardava il cassiere, perché nel nostro immaginario, la nostra mente sa che un cassiere al quale viene puntata un'arma sicuramente terrà le mani in alto. Ecco, questo è soltanto uno degli esempi per far capire appunto che tante volte una frase, una dichiarazione in aula è falsa, ma non è detto appunto che sia una menzogna volontaria. E qui la complessità proprio dell'apparato, dell'apparato processuale tenendo conto delle personalità e tenendo conto di tantissime possibilità che ogni persona pone di fronte ai magistrati. Sto mentendo, è il titolo del nuovo romanzo di Maria Elisa Luisi, un caso per ilia Moncada pubblicato da Mondadori. Ma prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Ma allora, guarda, proprio ieri ho iniziato a leggere, sempre per restare in argomento, anche se ci spostiamo un po' sul true crime, e l'ultimo, credo che sia tra l'altro l'uscito di Grisham, che è incastrati. Vengono analizzati dei casi, chiaramente dei casi realmente accaduti, di uomini che si sono trovati all'interno della macchina della giustizia e che purtroppo hanno sprecato parte della propria esistenza a dover lottare contro questo meccanismo che in qualche modo gli ha ingiustiti. Addirittura, credo, nell'ultimo episodio che viene narrato da John Grisham, ma in uno dei casi l'imputato addirittura, siamo nel Texas, viene addirittura condannato a morte, l'avvocato non riesce a salvarlo in tempo. Soltanto dopo si scoprono prove che il responsabile del delitto, di cui era accusato, un delitto orribile peraltro, era stato accusato di avere ucciso le sue tre figlie appiccando fuoco alla stanzetta delle bambine. Purtroppo in quel caso l'avvocato di difesa non è riuscito a salvare l'imputato. E quindi, insomma, ecco, queste sono le mie letture amene. Il libro di John Grisham è scritto insieme con Jim Coskley, tra l'altro, come hai detto tu, pubblicato da poco, incastrati, storie vere e incredibili di condanne ingiuste. Il libro è pubblicato da Mondadori intanto. Grazie davvero, Maria Elisa, e buona giornata. Grazie a te, davvero. Grazie ancora per l'invito.